Per derivare una funzione composta ci viene insegnata a scuola questa formula, che ha l'effetto, appena la si vede, di far odiare un po' di più la matematica a chi già la sopporta poco. In effetti tutte quelle parentesi creano confusione. Ma è veramente necessaria? No. Esiste un metodo più comprensibile? Sì, e si basa, per quanto riguarda la composizione di due funzioni, sul ricordare le formule base di derivazione e fare un piccolo passaggio in più. Per la composizione di tre o più funzioni, invece, vedremo più avanti la regola della catena. Prendiamo questo primo esercizio. Questa funzione può essere vista, generalizzando, come radice di f di x. Per trovare una formula per calcolarne la derivata, partiremo dalla derivata della radice di x. Questa derivata fondamentale è uguale a 1 fratto 2 radice di x. Quello che interessa a noi è trovare la derivata di radice di f di x. Non dovremo far altro che scrivere la derivata come prima, sostituendo ad x f di x, e poi moltiplicare tutto per f' di x, derivata di f. Possiamo riscrivere tutto come un'unica frazione. In pochi passaggi abbiamo trovato una formula che ora ci permetterà di derivare la funzione proposta dall'esercizio. Applicandola avremo a denominatore 2 per la radice di x alla seconda più 4x più 3, e a numeratore la derivata di quel trinomio di secondo grado. Per la regola di derivazione di una potenza avremo Ci fermiamo qui perché la derivata di una costante, come lo è 3, è 0. Poi possiamo raccogliere 2 a numeratore e semplificarlo col 2 a denominatore. Senza farci venire mal di testa con tutte quelle parentesi, abbiamo trovato la derivata di questa funzione composta. E questo ragionamento si può estendere ad ogni funzione base. Qui ho riportato le derivate della composta di due funzioni per alcune funzioni fondamentali. Per esempio, prendiamo e elevato x. La sua derivata, la più semplice in assoluto, è e elevato x. Se abbiamo, invece, e elevato f di x, la derivata sarà e elevato f di x per f' di x. Tutto ciò è fattibile quando la composizione è di due funzioni. Quando le funzioni coinvolte sono 3 o più, dobbiamo cambiare strategia. E lo vedremo nel prossimo esercizio. In questa matriosca di funzioni abbiamo coseno, logaritmo naturale e seno. Quindi la composizione è di tre funzioni. La formula ufficiale è questa e, soltanto a guardarla, si rischia di andare in overdose di parentesi. Ce ne sono ben 20. Dato che a noi questa formula proprio non ci piace, introduciamo quella che è la regola della catena, che consiste nello smontare la funzione, derivarne ogni pezzo e poi ricomporre il tutto moltiplicando ogni derivata ottenuta. Introduciamo intanto la notazione di Leibniz per la derivata. Con dy fratto dx intendiamo dire che stiamo derivando y rispetto ad x. È la stessa cosa di dire f' di x, soltanto che la notazione di Leibniz ha qualche vantaggio in più. Intanto ci ricorda le due variabili, y e x. Inoltre, essendo scritta sotto forma di frazione, ha il pregio di comportarsi proprio come una frazione e può essere semplificata. Infatti, per una composizione di tre funzioni, possiamo scrivere la derivata in questo modo, dove u e t sono due variabili ausiliarie che hanno lo scopo di semplificare il calcolo della derivata. Come si può vedere, semplificando i du e i dt, farlo è del tutto lecito, ciò che rimane è dy fratto dx, la derivata che ci interessa. Ma noi non li vogliamo semplificare, anzi, saranno proprio loro ad aiutarci a venire a capo di questa derivata. Vediamo come. Dobbiamo smontare la funzione partendo dall'interno e andando verso l'esterno. La funzione più interna è coseno di x, e la chiameremo t. Poi abbiamo il logaritmo naturale del coseno di x, quindi il logaritmo naturale di t. A questa funzione daremo il nome di u. Infine abbiamo il seno, la funzione principale, che sarà y uguale seno di u, essendo u l'argomento del seno. I colori ci aiutano a capire meglio il procedimento. Adesso dobbiamo derivare ogni pezzo rispetto alla rispettiva variabile, t rispetto ad x, u rispetto a t, e y rispetto a u. Dato che le funzioni che abbiamo scritto sono tutte funzioni semplici e non composte, derivarle sarà un gioco da ragazzi applicando le regole fondamentali delle derivate. La derivata di coseno di x è meno seno di x. La derivata del logaritmo naturale di t è 1 fratto t, e la derivata del seno di u è coseno di u. Adesso dobbiamo moltiplicare tra di loro queste derivate, dy su di u per di u su di t per di t su di x. Scriviamo tutto in maniera ordinata in una frazione. Dato che a noi la derivata interessa in funzione di x, dovremo sostituire a t ed u le loro espressioni in funzione di x. Partiamo da t, che sappiamo essere coseno di x. u è il logaritmo naturale di t, quindi il logaritmo naturale del coseno di x. Abbiamo fatto, e ora, come tocco di classe, scriviamo tutto in questo modo e poi sostituiamo seno di x fratto coseno di x con tangente di x, trovando l'espressione finale della derivata. Se avessimo usato la formula con tutte le parentesi, saremmo ora in preda ad una crisi di nervi. Vediamo un altro esempio. Anche in questo caso abbiamo la composizione di tre funzioni e agiremo come abbiamo fatto prima. Iniziamo a smontare la funzione. La parte più interna è 2x più e elevato x, a cui diamo il nome di t. Poi abbiamo la radice, che chiameremo u, e sarà radice di t. Infine la y, che sarà e elevato u. Ora deriviamo ogni pezzo. La derivata di 2x è 2 e la derivata di e elevato x è e elevato x. La derivata di radice di t è 1 fratto 2 radice di t. E la derivata di e elevato u è e elevato u. Per calcolare la derivata richiesta dall'esercizio, moltiplichiamo i vari pezzi tra di loro. di y su di u per di u su di t per di t su di x. Ora possiamo scrivere tutto in un'unica frazione e fare l'ultimo passaggio, scrivere la derivata in funzione di x. Partiamo, come al solito, dalla t e sostituiamola con 2x più e elevato x sotto radice. Poi sostituiamo u, che è radice di t, e la sostituiamo con radice di 2x più e elevato x. Ecco la derivata che cercavamo. Questo metodo è efficace anche per la composizione di 4 o più funzioni. Nel caso di 4, per esempio, basterà aggiungere una variabile ausiliaria, che possiamo chiamare v. Chiaramente abbiamo bisogno di conoscere le regole di derivazione, e in questa playlist trovate una serie di video che insegnano a diventare maestri nell'arte della derivata. Buon proseguimento e buono studio! Buon proseguimento e buono studio!